Come si friggia il baccalà? Baccalà fritto di Natale. Il baccalà si impana nella farina come potete vedere, ecco qua. Dopodiché si lascia friggere un quarto a fuoco vivo, un quarto d'ora da un lato e un altro quarto d'ora da un altro. Ci vediamo a cottura ultimata! Grazie a tutti!